Amici di Raiuno, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento mattutino con le previsioni di traffico per il giorno. Ma intanto vediamo in questo momento le immagini che si riferiscono in autosole nell'area toscana dove, come vedete, flussi vivaci in entrambe le direzioni. Andiamo alla diramazione di Roma a sud e dove ci sono già delle quote, come vedete, tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, quindi traffico intenso per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. Ma ci sono code in questo momento in autosole tra Modena Nord e il Bive della 22. Anche nel tratto toscano abbiamo delle code indicate tra Firenze Scandici e Calenzano, Sesso Fiorentino, in direzione Bologna. Abbiamo una segnalazione di un incidente sulla statale della Valle Caudina tra Fratta Maggiore e Melito di Napoli in direzione della Domiziana. Possibili criticità, rallentamenti per alcuni concerti in programma questa sera, lo vediamo con l'ausilio della grafica, alla Spezia Emskilla in Piazza Europa, poi Tiziano Ferro al Dallara di Bologna e Riccardo Muti a Pompei dirige il concerto dell'amicizia. Poi stamattina possibili disagi, rallentamenti davanti al Ministero del Lavoro in via Flavia per una manifestazione fino alle 14. Ecco queste al momento le notizie di maggiorilievo. Grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di RAE Pubblica Utilità. Mi giunga l'augurio di una bellissima giornata, guidate con prudenza e come sempre sono le 6.30 puntuali per voi le notizie del Tg1. Arrivederci. Grazie a tutti.